È tornato l'Open Day all'Aeroclub L'Aquila, dopo tre anni di stop dovuti dal Covid. L'ultima edizione c'è stata infatti nel 2019. L'Aeroclub, presente nel settore aeronautico da tantissimo tempo, ha voluto aprire ai visitatori la propria aviosuperficie situata in località Vicenne, al confine tra Poggio Picenze e Fossa. Un evento straordinario per tutti gli appassionati. L'Open Day è stata un'occasione per poter visitare l'aviosuperficie, ma soprattutto per effettuare dei voli di ambientamento che hanno consentito a chiunque di potersi freggiare del titolo di pilota per un giorno. Questo è un club storico, nasce nel 1958, con sede iniziale a Preturo. Nel 2014 si è spostato qui, su questa aviosuperficie in erba, 650 metri di pista per 30 di larghezza. Abbiamo diversi aerei, abbiamo quattro aerei, abbiamo anche un aliante, un traino aliante, più aerei di soci, che vedete qui in giro, aerei di soci. È una bella iniziativa, una bella società, tutti amici, le cose si fanno per amicizia, non si fanno per convenienza. Noi qui non ci guadagna nessuno, anzi, deve essere onesto, ci rimettiamo. Però il bello è stare tutti insieme, condividere la passione del volo. Presidente, io voglio diventare pilota, quanto tempo ci metto e cosa devo fare? Allora, noi abbiamo diversi corsi. Si parte da un VDS basico. Un VDS basico richiede 16 ore di volo e 45 ore di teoria. Si fa, dipende dalla velocità con cui uno si impegna a fare i voli, si fa con sei mesi. Oppure abbiamo i corsi di aviazione generale, sia LAPL, dove LAPL sta per aerei leggeri di aviazione generale, fino a 3.000 kg. oppure il PPL, che non ha limiti di peso. Sempre noi facciamo monomotori perché abbiamo solo monomotori. E questi corsi durano un anno perché richiedono 100 ore di teoria e 45 ore di volo. Presenti anche i falconieri della città dell'Aquila. Antonello Dundè, come si addestrano questi meravigliosi animali? Salve a tutti. Il mondo della falconeria è molto particolare. Abbiamo diverse tipologie di animali, sia a alto volo che a alto volo. Sul pugno oggi abbiamo una poiana di Harris, la quale l'addestramento è particolare, richiamandola sul pugno, e con molta addizione e molto tempo. Quindi le tipologie di addestramento sono molto particolari, non si possono spiegare in un po' di minuti. Però quello che possiamo dire è che per fare in modo che l'animale si abitua a noi, bisogna dedicargli molto il nostro tempo. Grazie.